Che serpente mi ha perdito! Dai, adesso non te la prendere con l'acqua, solo perché non ti piace l'immagine che riflette Ma che ci puoi fare? Non a tutti è concesso il dono della bellezza Sì, se quella tigre ti mette le zampe addosso, carino, vedrai che fine fa la tua bellezza Ma chi? Quel micetto? Ma è inoffensivo, stati a vedere Che c'è, te lo astrisce? Il cucciolo d'uomo ti ha rubato la lingua? Laki, andiamo a fare qualcosa da un'altra parte No, 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 un momento ragazzi, prima un indovinello Allora quanti uomini occorrono per gabbare una tigre? Sorprendimi Neanche uno, perché basta solo un ragazzino Avanti, Laki, andiamo via, dai Cambiare aria E te ne dico un'altra, quel ragazzino è qui nella giungla Proprio sotto i tuoi baffi Molto interessante A me risulta che è tornato al villaggio Eh, no, risposta errata No, 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 non ti chiedi No, pare che si dirida verso il fiume in compagnia di un orso Verso il fiume, verso il fiume, dici Oh, non starlo a sentire, infatti, quello è appena arrivato, non sa niente di niente No, al contrario, direi che è molto informato No, fermo, un momento, ma dove scappi? Ti brucia la coda? E tu invece che cos'hai? Un nodo alla coda? E tu invece che cos'hai?